Dottore, se lei mi guarda così, mi intimidisce. Le faccio soggiezioni. Un pochino. Chissà quante ragazze conosce che sanno fare bene le iniezioni. Che significa? Lei mi piace comunque, anche se le fa male. Anche se mi si rompe la cotezza. Che importanza ha? Ma come che importanza ha? Ma come che importanza ha? Non si incide. Ma come si rompe la cotezza? Che importanza ha? Intento che si può tagliere. La vogliamo fare questa iniezioni o no? A tre ore. Io sto in aspettativa. Chiacchierano come se stessi venire un zonotto oppure a facciata un balcone. Ma qui papà è pronto? Ecco, il massaggio. Pronto? Pronto, pronto. Pronto? Chi è che parla? Ah, dai dottore. E cosa vuole il dottore? E cosa vuole? Sono stato chiamato. Ma da chi è? Da chi è stato chiamato? Da loro, non da me. Calma, calma. Andiamo. Pronto papà. Dottore, non mi faccio così che mi fa ridere. Dottore, non la faccio ridere. Moraggio. Via. 거�ри, non mi faccio ridere. Grazie a tutti.